Amici del Grifo e amici di ACPerugia.com, un cordiale buon pomeriggio da Alessio Torsuali che vi parla, Enrico Fanelli che al mio fianco e Roberto De Tonce in cabina di regia. Stadio Barbetti di Gubbio, tra poco meno di due ore andrà in scena il derby tra Gubbio e Perugia con inizio alle ore 17.30, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie C Giro Lepi. Il Perugia viene dalla convincente vittoria Cassaringa contro il Carpi e si trova ad affrontare questa partita con i favori del pronostico anche se naturalmente poi il campo è sempre a sentenziare i propri risponsi. Perugia naturalmente per inseguire il treno promozione è condannato a vincere, a proseguire secondo il percorso, secondo i dettami del suo allenatore e della società oltre che in base alle seconde aspettative di tutto l'ambiente. Dovrà naturalmente tentare a tutti i costi di ottenere i tre punti per appunto ambire ancora al primo posto o per comunque avere una postazione utile in chiave playoff. D'altro canto il Gubbio attraversa un periodo sicuramente di tranquillità, ben lontano da cattivi pensieri legati a posizioni di classifica pericolanti, tuttavia vicino alla possibilità di agguantare il decimo posto che significherebbe per il Gubbio raggiungere una postazione vaida per gli stessi playoff. Il Gubbio naturalmente non starà quindi a fare da sparring partner per la squadra di Caserta quindi sicuramente darà vita a una partita fatta di grinta, fatta anche di tecnica perché comunque il Gubbio ha nella sua rossa giocatori importanti per la categoria. Le altre squadre, le altre che ricordiamo, le altre rivali sul Tirol ospiterà il Modena. Lo scontro sicuramente difficile per entrambe le due compagni, il Padova ospiterà la Feral di Sanò. Tre incontri da cui si avranno sicuramente ulteriori indicazioni per capire naturalmente quali saranno poi alla fine le candidate alla vittoria finale. Ulteriori indicazioni che poi ci deliveranno dallo scontro che vedranno poi i grifoni di domenica prossima quando Alcuri farà visita lo stesso sul Tirol. Ma veniamo alle statistiche. Gruppe Perute si sono affrontate 16 volte, escludendo tutte le amichevoli di cui solo il tanto in parte riusciamo a ricostruire nella storia. Nelle 16 gare ufficiali, le gare sono state di Coppa Italia, mentre le altre sono dei vari campionati divettantistici, SREC e SREB, soltanto un precedente in SREB. Quello relativamente al campionato 1947-1948, in cui il dubbio prevalse per due reti ad uno. Nei 16 incontri ricordiamo 6 vittorie da parte del Perugia, 7 pareggi, 3 sconfitte. I gol fatti dal Perugia sono 25, mentre quelli subiti sono 15. Una curiosità da sottolineare è quella relativa al campionato 1936-1937, allora quando le squadre militavano in prima divisione. La gara si concluse per tre reti a uno in favore del dubbio, ma per un errore tecnico si faceva sì che la gara dovesse essere ripetuta. Nell'occasione il team bianco-rosso non si presentò alla gara e venne assegnata la vittoria a tavolino per 2 a 0 agli Agubini. Ricordiamoci che queste analisi statistiche ci sono state fornite dallo storico Giordano Martucci. Ma ora andiamo a rivedere il video fotografico relativo all'incontro precedente e lì tra Perugia e Carmo con le immagini di Roberto Sennicci. Perugia e Carmo con le immagini di Roberto Sennicci. Ver Menschen superiore 나온 schifo regio per 20-25 ans ha cao un po' connello diomo e rollo storico giro, Dolv sambo con le immagini di Roberto Sennicci. con le immagini di Roberto Sennicci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prendiamo il collegamento da Gubbio e andiamo ora a analizzare con Enrico Fenelli qui al mio fianco le probabili formazioni delle due squadre. Sì, intanto borgo anche io il più cordiale e buon poveriggio da una ventosa Gubbio e ora andiamo a vedere appunto come possono schierare le due squadre. E' una importante emergenza difensiva, manca Negole infortunato, Monaco squalificato e Sgarbi che lamenta una distorsione ad una caviglia. Il Perugia dunque si schiererebbe in questo modo. Fulignati in porta, Elia, Angella, Van Baleghem che questa è la vera novità attesa e Famagli è in difesa. Poi Juan, Moscati e Sunas a centro campo, quindi nessuna novità sostanziale rispetto all'ultima esibizione. Il Gubbio giocherà a specchio con Zammarion in porta, Formiconi, Uge, Signorini e Ferrini a comporre il quartetto difensivo. Malaccari, Megelaitis che potrebbe essere preferito a Saints-Mazza a centro campo e poi Pasquato dietro le punte che sono Pellegrini e Fedato. La classifica del girone B è la seguente, prima che questo turno infrasettimanale venisse disputato. Il Padova capolista a 61 punti, il Sud Tirola a 59, il Perugia a 57 che deve ancora recuperare il prossimo 31 marzo contro la Fermana, il Modena a 54, la Trestina a 48 che ha giocato ieri, la Feralpi Salò a 46 punti con una gara da recuperare contro il Cesena, seguono a 45 Mateliche e Stammerettese, a 43 il Cesena che ha tre gare da recuperare con Feralpi Salò, Gubbio e Ravenna, a 40 punti il Mantova, a 38 il Gubbio che deve recuperare sempre contro il Cesena, poi la zona bassa a 36 per Mala, 34 capi, 30 vispesalo, 27 Molesi e Fano, 26 Legnago e 20 punti il Carezzo e il Ravella, con Ravella che deve recuperare di Servi contro il Vincenzo. Allora, Barbetti e tutto, vi auguriamo buona visione della partita sui vari canali, e a risentirci. Gubbio stanno scendendo le temperature, non resta che attendere a questo punto il fisco dell'arbitro, il signor Miele Di Nola. A voi di seguirci sulla nostra piattaforma cperugia.com per la diretta, interviste post-gara e analisi post-gara. Buon pomeriggio e alla prossima partita. Buon pomeriggio e alla prossima partita.